Sarà un festival che legittimerà una volta di più, la seconda volta, Pisa come la capitale della robotica. Dall'industria alla chirurgia, per il secondo anno consecutivo, Pisa si candida a diventare centro di eccellenza mondiale della robotica. Ecco dunque che la città della torre, che nel campo dei robot ha una storia lunga, quasi 40 anni, prenota un posto in prima fila nel secondo festival internazionale, in programma dal 27 settembre al 3 ottobre. Per raccontare la robotica in tutte le sue declinazioni. La robotica ha rivoluzionato la sala operatoria, ha assunto un'importanza eccezionale. C'è un'evoluzione continua. Porteremo alcune novità, rispetto all'anno scorso, sensazionali. 10.000 visitatori lo scorso anno per una manifestazione che vuole mostrare al grande pubblico come il robot possa diventare il miglior amico dell'uomo e agevolarne la vita quotidiana. Un'edizione ricca di sorprese, a cominciare dalle location, che per la prima volta toccheranno nuovi suggestivi luoghi, come la Versilia. Ed è proprio da Torre del Lago, luogo tanto caro a Giacomo Puccini, che il CT della nazionale campione del mondo, Marcello Lippi, ci ricorda l'appuntamento con il festival. Vieni nella mia Versilia, vieni a scoprire la Robo Valley. Con lui un altro testimonial d'eccezione, il tenore Andrea Bocelli. Il 3 ottobre al Teatro Verdi di Pisa ci sarà l'evento Clou con il nostro super testimonial Andrea Bocelli. Ci saranno veramente delle grandi sorprese, le prime al mondo, che vedremo in un contesto particolare.